La Juventus del quinquennio d'oro Con l'avvento alla presidenza di Edoardo Agnelli e sotto la guida dell'allenatore Caccano giungono a Torino Caligaris, Ferrari, Borrell II, Varlien e gli oriundi argentini Orsi e Monti. La Juventus entra nella storia del calcio italiano, vincendo 5 scudetti consecutivi. Stagione 1930-1931 La Juventus delle meraviglie, quella dei 5 scudetti di fila, parte da questa stagione. Il presidente Edoardo Agnelli e il suo vice, il barono Giovanni Mazzonis, infilano al loro posto gli ultimi tasselli di un mosaico che risulterà vincente. Dall'Alessandria arriva il nuovo tecnico, Carlo Caccano. Porta con sé un mediano di classe purissima, Giovanni Ferrari. Gioannin non è un corridore, ma piedi d'oro e cervello fino. Sa trovare i compagni in campo con passaggi perfetti e diventa il motore e l'anima della squadra. In attacco, la signora ha un'anima sudamericana, fatta di estro e fantasia. Le invenzioni sono di Raimundo Mumuorzi e di Renato Cesarini, ai quali si affianca Giovanni Vecchina, arrivato dal Padova e subito rivelatosi per inna fondamentale. In difesa nasce il mito del trio Combi-Rosetta-Caligaris, così diversi in campo e nella vita e così complementari. Epilogo quasi scontato, la Juventus vince lo Scudetto, il terzo della sua storia, dopo quelli del 1905, del 1925-26. Allenatore Carlo Carcano Stagione 1931-1932 Quando arriva a Torino, Luisito Monti, all'area di un ex calciatore. In Argentina ha smesso di giocare da mesi, è sovrappeso e anche i tifosi bianconeri storcono il naso. Invece il nuovo acquisto fa un mezzo miracolo, in pochi mesi perde 20 kg di peso, torna in perfetta forma e va a completare la linea mediana, portando un contributo di potenza e forza fisica. A 30 anni, Luisito inizia una seconda giovinezza, che due anni più tardi lo porterà in maglia azzurra e nelle 34 gli regalerà il titolo mondiale. L'altra faccia nuova è quella di Luigi Bertolini, fortemente voluto da Giovanni Ferrari, che lo aveva alle spalle nell'Alessandria. Una meteora, invece, il passaggio in bianconero è l'argentino José Maglio, arrivato con Monti, ma, assalito subito dalla nostalgia di casa, si chiude in sé stesso e non lega con i compagni. Gioco a 17 partite e, improvvisamente, scompare da Torino e dall'Italia. Il timoniere Carcano guida il suo gruppo vincente al secondo scudetto consecutivo, quarto nella storia bianconera. Giocatori Combi, Rosetta, Ferrero, Caligaris, Varli in primo, Monti, Bertolini, Varli in secondo, Munerati, Cesarini, Vecchina, Ferrari, Orsi, Maglio e Rosa. Allenatore Carlo Carcano Stagione 1932-1933 Il primo grande colpo del mercato di Agnelli e Mazzoni è Pedro Serenagiotto, brasiliano chiamato a sostituire l'argentino Maglio. Il Carioca va a inserirsi sulla destra in un tridente d'attacco, che a sinistra ritrova il grande Mumorsi e al centro fa risordire a Maglia bianconera un ragazzo di appena 17 anni. Si chiama Felice Placido Borel, figlio e fratello di giocatori juventini, scoperto dal barone Mazzonis nei Ballon Boys Torino. I tifosi bianconeri lo soprannomineranno Farfallino, perché in campo la sua leggerezza è impareggiabile. Ma c'è anche tanta sostanza, che si traduce in 29 reti in 28 partite, media altissima, che contribuisce alla conquista del terzo scudetto di fila dell'era Carcano. Eppure la Juventus era partita a rallenti, perdendo la prima giornata sul campo dell'Alessandria e la terza su quello del Napoli. Poco alla volta i bianconeri recuperano il terreno perduto nei confronti di Torino, Napoli e Bologna. La festa tricolore continua. Giocatori Combi, Rosetta, Caligaris, Ferrero, Sant'Agostino, Varli in primo, Monti, Bertolini, Genta, Sernagiotto, Varli in secondo, Borel secondo, Ferrari, Orsi, Cesarini, Munerati, Pecchina e Inberti. Allenatore Carlo Carcano Stagione 1933-1934 I vecchi leoni non hanno perso il vizio di ruggire. Attaccano ancora il campionato con una forza incredibile, nonostante molti di loro viaggino da tempo verso pre-30 anni. Gli anziani del gruppo sono il portiere Combi, titolare dal 21, Luisito Monti, Rosetta e Caligaris e Mumu Orsi. La Juventus gioca finalmente su un campo degno di blasone e di una squadra da primato. Il 29 giugno del 33, in occasione dell'incontro di ritorno con lui, Pest di Coppa Europa, era stato inaugurato il nuovo impianto, capienza a 60.000 spettatori, intitolato a Benito Mussolini, data l'epoca. Vincere lo scudetto è un'impresa più faticosa del previsto. L'ambrosiana di Meazza, Serantoni, Pitto e De Maria è un avversario tenace. La Juventus è campione d'Italia per il quarto anno consecutivo, record assoluto per il calcio italiano. Di lì a poco inizieranno i mondiali. Vittorio Pozzo porterà in azzurro Combi, Monti, Bertolini, Ferrari, Orsi, Borel II e Rosetta. A tutti toccherà l'onore e la gioia di tenere tra le mani la Coppa Rimè e di entrare nella storia del calcio italiano e mondiale. Giocatori Combi, Valinasso, Rosetta, Caligaris, Ferrero, Varlin I, Monti, Bertolini, De Pertini, Serna Giotto, Cesarini, Borel II, Ferrari, Orsi, Varlin II e Mihalic. Allenatore Carlo Carcano Stagione 1934-1935 L'età dei campioni comincia a farsi sentire. Mille battaglie logorano i guerrieri e la Juventus arriva naturalmente alla fine di un ciclo irripetibile. La macchina potente perde i pezzi giorno dopo giorno. Dopo il titolo mondiale è chiuso col calcio Gian Piero Combi, il numero uno è il capitano azzurro. A marzo anche Raimundo Orsi torna in Argentina. A febbraio, per motivi personali, Carlo Carcano, timoniere di quattro scudetti, viene allontanato e la panchina viene affidata all'ingegner Gola, dirigente e accompagnatore ufficiale della squadra. È una Juve più stanca, ma sa vincere ancora. Per quasi tutta la stagione insegue la Fiorentina a partita fortissimo e nel finale approfitta del crollo dei Viola per raggiudicarsi il quinto scudetto di fila, che è anche il settimo della storia bianconera. Giocatori Valinasso, Rosetta, Foni, Caligaris, Varlien I, Monti, Bertolini, Depertini, Ramella, Varlien II, Cesarini, Serantoni, Borel II, Ferrari, Orsi, Diena, Gabetto, Tiberti, Cason, allenatore Carlo Carcano, sostituito da Gola. L'ultimo scudetto della grande Juve coincide con la fine improvvisa e violenta dell'uomo che l'ha presa per mano e guidata verso la leggenda, il presidente Edoardo Agnelli, che muore in un incidente aereo. E il 14 luglio del 35, l'ingegnere aveva appena 43 anni. Per un tragico destino, con la sua vita si chiude il ciclo della Juve dei record.